Buongiorno a tutti. Allora, la prima interrogazione è in merito alla presenza di Amanto sull'Istituto Superiore Tecnico Leonardo da Vinci di Firenze. Ovviamente il Comune di Firenze e l'ISPO, l'Istituto Superiore per la Prevenzione Oncologica, interpellati, non hanno ancora fornito una risposta, diciamo, scritta, ma hanno assicurato per le vie brevi che la situazione non solo è conosciuta, ma è presidiata e completamente sotto controllo. Sono state adottate tutte le salvaguardie, fra le quali anche le avvisi di cui si parlava nella interrogazione, per dare indicazioni specifiche sulle modalità, ovviamente, di comportamento del personale e del pubblico, per mantenere quindi la situazione in assoluta sicurezza. Grazie, Assessore, di essere qui oggi. Devo dire che sono assolutamente insoddisfatto della risposta. Per la scuola, versa in condizioni, dal nostro punto di vista, di grave pericolo per la salute, avrei gradito che fosse l'Assessore Saccardi, proprio per un problema di salute, a rispondere a questa interrogazione, diciamo, siamo insoddisfatti perché sappiamo e inviterei tutti i consiglieri a prendere in considerazione l'invito che gli è arrivato da ONA per sabato 19. Abbiamo una conferenza con l'organizzazione nazionale Amianto sui danni da Amianto, sabato pomeriggio, dalle 15 a 19, all'auditorium qui della regione toscana, anche per avere un po' più un'idea chiara sul rischio da Amianto, che non è un rischio dose dipendente, ma è un rischio qualitativo che determina gravi problematiche sanitarie, nello specifico il mesotelioma, che è un tumore pleurico specifico a svesto correlato, cioè legato all'Amianto, e allo stesso tempo determina altre patologie come il tumore polmonare, come problematiche importanti delle vie respiratorie, come delle asbestosi o silicosi fino all'insufficienza respiratoria. Quindi soltanto il contatto con l'Amianto è pericoloso, si possono vedere gli esiti fino a 37 anni dopo. Quindi chiaramente esporre a questo rischio operatori della scuola, come insegnanti, come Bidelli, e come gli studenti in particolare si parla di un biennio, è davvero dal mio punto di vista un atteggiamento criminale. Quindi in questo senso sono assolutamente insoddisfatto. Vi voglio ricordare che ci sono delle inchieste giudiziarie in atto. Nel 1997 questo biennio più chiuso perché era pericoloso per la salute dei ragazzi e degli operatori, e poi è stato riaperto quando la scuola è diventata un'azienda, c'era bisogno di spazio per avere iscritti che pagavano, che davano valore economico alla scuola. Di recente, qualche settimana fa, è uscita un'inchiesta anche sull'Espresso a livello nazionale, che cita nello specifico Leonardo da Vinci, in cui si sospetta che ci siano alcune decine di operatori e studenti che sono passati da quella scuola con danni da amianto reali, e quindi c'è appunto un'inchiesta in corso secretata al momento. Allora, sapere tutto questo dovrebbe indurci in termini di prudenza e in termini di cautela almeno a chiuderla questa scuola, a non far frequentare i ragazzi e gli operatori all'interno di questo rischio. Trovo assolutamente incredibile che ai ragazzi di 14-15 anni gli venga chiesto di non correre, perché se no alzano le fibre da amianto nella scuola. E che noi si ritenga che, mi meraviglia che l'ISPO dica sotto sicurezza perché sono stati apposti questi cartelli che non devono grattare muri o appoggiarsi con le sedie a muri, perché da muri poi cade l'amianto e che non devono correre nei corridoi. Ma avete idea di cosa vuol dire chiedere a un 14-15 anni di non correre durante l'ora di ricreazione per evitare di respirare l'amianto? Ma è una follia! Questa interrogazione si è fatta il 3 di luglio, la risposta arriva oggi e ancora, mi sembra di aver capito, non c'è una risposta scritta del Comune di Firenze. Ma qui siamo veramente a dei livelli di schizofrenia totale. Io sono insoddisfatto e molto arrabbiato per questa faccenda. Grazie.